Oggi ad Azione Salute vi presentiamo questo nuovissimo prodotto che è il bastone magico. La prima caratteristica che potete vedere è che rimane in piedi da solo grazie al suo puntale che oltre ad avere questa funzione permette una grande stabilità e un bellissimo movimento durante la deambulazione. La seconda funzione principale di questo bellissimo bastone è sicuramente la luce. Molto utile ad esempio quando si scende dal letto in una situazione di stanza buia come luce guida oppure durante un attraversamento pedonale per segnalare la propria posizione. Ma che cosa differenzia questo bastone dagli altri? Per quanto riguarda la regolazione in altezza, essa ovviamente è possibile in base alla persona ma non è pieghevole. Questo potrebbe sembrare uno svantaggio ma in realtà gli conferisce, essendo un pezzo unico, una grande robustezza e ha una portata di 113 kg. Per regolarlo basterà svitare questo perno e poi scegliere tramite il suo pulsantino il foro di regolazione adatto. Consigliamo sempre di tenere il bastone all'altezza dell'alca. È presente anche un laccetto di altissima qualità per avere maggiore controllo e sicurezza. Con l'acquisto del bastone le batterie sono sempre incluse. Questo oggetto è perfetto se stai cercando un regalo per i tuoi nonni. Grazie a tutti.